In che modo Banca IFIS sostiene le piccole e medie imprese? Banca IFIS ha innanzitutto la vocazione di essere la banca delle piccole e medie imprese e su questo settore noi siamo molto presenti. Siamo una banca corporate, per cui siamo in grado di supportare le piccole e medie imprese in tutte quelle che sono le esigenze per quanto riguarda la gestione del circolante, quindi dei propri crediti attraverso il factoring, che è il nostro prodotto di punta, ma oltre ad altri servizi, i finanziamenti medio-lungo termine sia per liquidità d'azienda che per sviluppo di investimenti, il leasing, che è un altro nostro prodotto storico che gestiamo sia per quanto riguarda il leasing automobilistico che strumentale, oltre a tutta un'altra serie di servizi legati per esempio all'export e all'importo, quindi il supporto degli acquisti per quanto riguarda i fornitori esteri, oltre al supporto della propria filiera con programmi di reverse e confirming.